Siamo con Lorenzo Bogic, amministratore delegato di 4Trucks Italia, dopo il successo del lancio di F-Line al transporte che siamo qui in pista per provare questa nuova gamma. Qual è l'obiettivo di questa gamma per 4Trucks? La gamma è fondamentale per noi perché chiaramente dobbiamo andare a coprire una fascia di mercato che fino adesso l'abbiamo toccato solo con il dito mignolo, quindi è chiaro che per noi è molto interessante e importante. La gamma è stata rappresentata come dicevi prima giustamente a transporte a livello nazionale, ha avuto un interessante successo da parte del pubblico e del piacere su questo veicolo, adesso siamo qui per farlo provare a tutti quanti, quindi siamo in pista, siamo con voi giornalisti oggi, domani abbiamo tutta la nostra forza vendita presente, lo faremo testare, verificare, valutare in modo tale da poter vendere proprio quella che è la qualità di questo prodotto che è sicuramente molto elevata. Ecco, è evidente che il family feeling dell'F-Line è quello già di grande successo dell'F-Max, ma se si dovesse individuare tre caratteristiche per convincere il cliente a fare questa scelta per il proprio mission, quali sono? Sicuramente allora l'affidabilità la robustezza del mezzo che era quella della versione precedente, mixata, una tecnologia assolutamente nuova, innovativa, che ha ripreso chiaramente quello dell'F-Max, quindi su questa cabina nuova e la sicurezza che è stata messa davanti a tutto quello che era diciamo come filosofia, proprio come effetto principale, quindi sicuramente sono questi tre elementi importanti. Bene, allora non ci resta che provarlo in pista, stay tuned!